amici di piazzale della vittoria un saluto da luca mastrangelo allora dico la verità sono le le 22 in punto di domenica sera e me e video ne canepana non avevo una gran voglia di farlo però purtroppo il contratto che ho plurimiliardario che ho firmato con piazzale della vittoria mi impone mi impone di fare il mio video domenicale altrimenti va a puttana tutto e io perdo tutti i soldi per il contratto che ho firmato fino a giugno fino al 31 giugno 2017 insomma per tutti i soldi del contratto quindi il video lo devo fare sono andato a vedere l'uni euro poi sono uscito finita la partita sono andato a mangiare al circo di barisano voi direte ma noi che cazzo ce ne frega io ve lo dico lo stesso sono andato a mangiare al circo di barisano sono tornato a casa adesso e il tiraculo ancora non mi è mica passato non mi è mica passato perché dico la verità spesso le ultime partite in casa dell'uni euro li andavo a vedere sapendo che si sarebbe perso e tornavo a casa che sapevo che si sarebbe perso oggi con un quintetto praticamente nuovo di pacca io sono andato al palazzetto nel mio intimo nel mio io sperando che si poteva vincere al sera sicuro al sera sicuro sicurezza non ci può essere però ci sono andato sperando che si potesse vincere e purtroppo non è successo siamo usciti tutti dalla palafiera con le solite facce siamo usciti tutti dalla palafiera con i soliti commenti e diciamo che la partita di oggi secondo me non dico che ha sancito la nostra retrocessione perché non voglio fare il catastrofista poi dopo mi danno del negativo del catastrofista però siamo sinceri ma come cazzo si fa in questo momento a vedere il bicchiere mezzo pieno io l'unico bicchiere mezzo pieno che vedevo era pochi minuti fa a barisano quando mi riempivano quello del vino e basta perché anche il più positivo il più ottimista del mondo in questo momento come fa come fa a vedere il bicchiere mezzo pieno io in settimana dico la verità ho ascoltato la conferenza di del presidente nico santi e l'ho anche apprezzata molto perché insomma ha fatto una cosa che non è da tutti ha ammesso gli errori ha detto abbiamo sbagliato abbiamo cercato di riparare a caro prezzo spendendo molti soldini e quando uno si mette in pubblico e dice in pubblico ammette in pubblico abbiamo sbagliato abbiamo fatto delle cappelle io l'ho apprezzo perché tante volte c'è chi fa le cappelle va comunque in pubblico si arrampica sugli specchi cerca scuse cerca io dal presidente non ho visto cercare scuse ho visto un mettere a nudo le proprie cappelle mettersi a nudo diciamo così di fronte alla piazza e dire cospargersi il capo di cenere e dire abbiamo scappellato e io questa cosa l'ho apprezzata poi però tante volte quando si cerca di riparare o di rimediare in corsa le cappelle che sono state fatte delle volte ci si riesce e delle volte non ci si riesce mi sembra di vedere che qui non ci si riesce perché avevano cambiato l'allenatore us per gli stessi avevano ciappe ogo bobo magic johnson castelli alessandra alessandra amoroso eva compratotte non si perde lo stesso modi 1 modi 5 modi 10 o modi 2 supplementare non supplementare us per gli stessi vi stessi io non so veramente cosa dire è veramente difficile commentare una roba del genere o spacchi tutto o bestemmia spacchi tutto oppure come sono io in questo momento fai un video in pre dalla rassegnazione io dico solo una cosa sarà poco bello da dire sarà poco sportivo da dire sarà passerò non lo so magari qualcuno giudicherà male quello che sto per dire però io guardo già al futuro per me non ci salva neanche la madonna spiego di sbagliarmi spiego di non ci salva neanche la madonna se retrocediamo non mi vergogno di dirlo non me ne frega niente comprate un titolo se fallisce qualcuno comprate il titolo di qualcuno se non fallisce nessuno andate a casa di qualcuno a bussare fategli venire voglia di vendere il proprio titolo ma me stetran in serie b agni voi andè sia chiaro se retrocediamo l'abbonamento lo faccio lo stesso vengo lo stesso però me in serie b agni voi andè compriamo il titolo sarà la serie a2 di cartone tanto non è nella prima ma nell'ultima volta che for lì compra il titolo o la ripescano o la sramazzano in qualche modo se la sgavagna me o mi interessa niente me e prossima in serie b agni voi andè fasi vuiter il titolo di